divine divine sul mio canale oggi facciamo una stesa relativamente all'entrata di mercurio nel segno dei pesci e mercurio che andrà ad aggiungersi a giove sole e nettuno quindi qua arrivano veramente percezioni extrasensoriali qua c'è davvero da aprire l'attenzione ai messaggi che riceviamo dalla dai mondi superiori intuizioni consigli sogni perché qua è il proprio il comunicare e leggo che si si apre alle percezioni che arrivano dai mondi superiori quindi davvero ci sarà un'esplosione di di intuizioni di sapienza di saggezza spirituale che arriva e ci indirizza per andare avanti nella nostra vita come sempre vi invito a mettere mi piace il mio video attivate la campanella e chi vuole approfondire il suo viaggio può contattarmi alla mail che trovate nel box informazioni allora andiamo subito a chiedere ai nostri angeli che intervengano in questa stesa per darci che cosa i messaggi relativamente a che cosa succede che cosa ci può dire che cosa può arrivarci dalla fiamma in questo momento dalla fiamma o per la fiamma o per la coppia insomma tutto siamo aperti a tutto quello che arriva e andiamo a vedere un po' che cosa è l'energia del momento per quanto riguarda le fiamme perché le energie di tutti questi pianeti concentrati nel segno dei pesci ci dà davvero la sensazione di un qualcosa che arriva che subito non viene compreso perché poi mercurio nei pesci non ci sta così bene perché mercurio è molto intelletto e gemelli e vergine e sono tutti segni un po' in contraddizione con i pesci però nel momento in cui mercurio entra in risonanza con i pesci quindi va a contattare i mondi superiori e se nella carta natale ovviamente sarebbe interessante vedere come come avete tutti i pianeti sulla vostra carta natale quindi questo poi può dirla lunga anche su cosa accade personalmente individualmente per ognuno di noi su queste energie e allora bisogna andare a vedere se si va a incastrare positivamente con altri segni in cui o con altri pianeti che sono più diciamo materiali quindi a questo punto c'è uno scambio tra materia e spirito che sappiamo essere la cosa più bella e più equilibrata benissimo allora andiamo subito a chiedere ai nostri angeli che cosa accade nelle energie di questa di queste giornate di questi di questi giorni in cui c'è l'incontro meraviglioso di tutti questi pianeti in pesci che sono dominati comunque governati dal padre delle fiamme il pesce è governato dal padre delle fiamme quindi in questo momento tutti questi pianeti sono sulla supervisione del padre delle fiamme e quindi interessante proprio vedere che cosa accade per le fiamme allora facciamo una stesa unica ovviamente non stiamo a separare femminile da maschile e sappiamo essere la stessa identica cosa con caratteristiche diverse allora vediamo un po ok andiamo a vedere le energie del momento questo è un momento in cui il mondo dell'anima maggiormente riesce a comunicare con il mondo materiale e quindi bisogna proprio aprire la percezione il cuore a ciò che arriva e quindi cercare anche se non è comprensibile comunque non non rispecchia un pochino gli schemi appunto dell'ego della della razionalità ma accogliere quello che ci sta ci viene detto vediamo un po il consiglio degli angeli beh ce n'è girato già uno anzi se ne sono girati due non li prendiamo tutti e e poi arcano maggiore la voce del maestro vediamo un po e vediamo un pochino la voce del maestro voilà è già uscita la carta perfetto perfetto allora andiamo a vedere subito per le fiamme in generale senza distinzione tra maschile e femminile andiamo a vedere cosa ci può girare in tondo ok quello che avevo detto poco fa è proprio il percepire cose che arrivano dal di fuori o dal di dentro perché può essere che attraverso persone o attraverso proprio la tua intuizione arrivino dei messaggi che non saranno immediatamente comprensibili ma sarà un qualcosa che rimarrà proprio profondamente radicato nella nostra percezione più sottile quindi bisogna dare ascolto tutto questo arriverà per dare un equilibrio un 25 mi parla di un 7 che mi dà l'equilibrio tra il sentire e il fare quindi attraverso queste intuizioni riusciremo ad agire nella nostra vita materiale proprio con una spinta in più proprio perché c'è il consiglio e l'intuizione dell'anima andiamo a vedere l'energia miracoli voilà allora io dico sempre che tutti questi pianeti dominati dal segno delle fiamme cioè scusate del padre delle fiamme nel segno proprio dei pesci che mi parla dei mondi spirituali senza confini proprio l'amore incondizionato qua arriva giove che un altro governatore dei pesci mercurio sole pensate che meraviglia che c'è e infatti dico sempre a tutti quelli che mi chiedono appunto la lettura del piano natale che in certi settori in cui si trova il proprio segno dei pesci arriveranno i miracoli quindi è bellissimo vedere proprio il settore in cui i miracoli sono stati diciamo predisposti e diciamo anche previsti per portare dei miracoli meravigliosi perfetto quindi arriveranno miracoli se riusciamo a mettere in pratica quello che ascoltiamo che accogliamo che arriva dai piani superiori e che influirà proprio incredibilmente nella nostra vita a livello materiale quindi aprite 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 bene la percezione della vostra del vostra mente quella mente proprio collegata al cuore perché sappiamo che ormai le fiamme contattano il mondo femminile l'ego contatta il mondo femminile diventa proprio un tutt'uno quindi cerchiamo di aprire accogliere accoglienza totale vediamo un po pace e da questo infatti scaturirà un qualcosa che è relativamente a una quiete interiore quiete interiore che scatena un cambiamento il cambiamento proprio avviene quando c'è l'equilibrio l'abbiamo visto c'è una situazione in cui non ci sono più oscillazioni non c'è più un un'altalena un andi rivieni un essere felici poi subito dopo tristi e depressi qua quello che succede proprio quando c'è il momento di guarigione che sono proprio queste oscillazioni non è più il periodo nostro ormai c'è un arrivare a essere coscientemente in equilibrio e in questo momento appunto c'è ancora di più questo equilibrio vedete che poi comunque miracoli mi parla di nuovo di un equilibrio di nuovo un 7 quindi qua c'è davvero le energie che stanno mirando un equilibrio totale che porta un cambiamento cambiamento attraverso la quiete dell'equilibrio quindi sapere la pace qua c'è pace 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 mi auguro che questa sia una cosa che arriva a che arrivi anche a livelli proprio universali ovviamente della situazione attuale ma gli equilibri si stanno cercando e arrivano i miracoli quindi aspettiamoci anche a livello sociale mi viene da dire energie miracolose che portano comunque un equilibrio e una pace vediamo un po ambition questo non significa che le ambizioni debbano essere messe da parte anzi sono ulteriormente amplificate perché se noi riusciamo ad ottenere un equilibrio e una pace interiore che promuove il cambiamento a questo punto possiamo davvero sviluppare le nostre ambizioni non ambizioni più solo razionali e mentali egoiche ma ambizioni di anima quindi davvero guardate che comincia la missione dell'anima prende il volo le ambizioni l'ambizione dell'anima e attenzione non quelle egoiche che provocano sempre solo guerre tensioni separazioni illusioni questa è la nostra vera realtà che viene fuori quindi in questo momento probabilmente molti di noi riceveranno anche delle intuizioni su quello che è la missione d'anima che devono cominciare a mettere come ho detto anche nella lettura precedente quella relativamente alle alle fiamme la missione delle fiamme quindi che prende diciamo la via del sociale che deve mostrarsi nel mondo quindi a questo punto vi invito proprio andare a visionare se ancora non l'avete vista prende il volo proprio la missione dell'anima e qua avremo delle intuizioni che ci parlano proprio di questo raggiunto il proprio equilibrio arrivano miracoli che ci vengono a proprio a spingere verso il cambiamento verso la nostra missione d'anima vediamo un po e cuore fedele e a questo punto davvero riusciremo a entrare in una situazione di pieno pieno godere della pace e della anche proprio della coppia di fiamma perché se insieme riuscite a avere questo equilibrio e quest'unione che vi porta a manifestare proprio questa vostra poi mi viene in mente proprio queste ali mi parlano proprio di un mercurio è che il messaggero il messaggero spirituale quindi qua mercurio che entra nel segno dei pesci diventa un messaggero dei proprio dei mondi spirituali degli dèi quindi ci porta davvero sulla strada giusta e ci sarà in questo modo la possibilità di godere pienamente delle energie dell'amore della fedeltà della coppia d'anima della coppia di fiamma perché qua è davvero un un cuore che accoglie completamente senza divisione senza più sospetti senza più dubbi senza più oscillazioni proprio quello che è la meraviglia dell'amore d'anima ci sono anche delle chiavi appese quando vedete che c'è proprio aprire il cuore si scatena veramente diciamo più non ci sono più porte che separano separano nulla proprio a livello anche d'amore quindi c'è pienamente il godere di questa cosa e c'è guardate è incredibile un altro sette un altro sette quindi questo punto questo questo amore di fiamma anche qua arriva a diventare totalmente materiale raggiunge il suo equilibrio quindi la pienezza di questa energia di fiamma diventa proprio materia diventa materia quindi raggiunge anche il suo equilibrio il sentire il fare diventano un tutt'uno quindi l'amore diventa proprio anche fisico che roba e queste sono sono i messaggi che ci arrivano dal cielo in questo momento e vediamo poi i due i due consigli che sono sono usciti dagli angeli che mi sono caduti insieme l'abbiamo subito presi tanto sta riprendendo sì allora otto di abbondanza il momento di accrescere il tuo sapere affinare le tue competenze è possibile che ti venga un improvvisa ispirazione di tornare a scuola frequentare seminari su argomenti che ti affascinano o imparare le arti della guarigione guardate anche un po qua dice ispirazione quello che vi ho detto adesso arrivano le ispirazioni giuste per indirizzarvi sulla vostra vita è un buon periodo per cambiare lavoro ricevere una promozione le chiavi del successo e nei dettagli verifica con cura i tuoi progetti perfetto e ovviamente avremo delle intuizioni al riguardo quindi arrivano attenzione perché ci portano sulla strada giusta 3 di emozione splendide emozioni notizie in arrivo notizie messaggero degli dei l'abbiamo detto verranno annunciati fidanzamenti gravidanze nascite lauree si stringeranno nuove amicizie comunità di persone con con idee affini accelerano i rapporti allacceranno i rapporti nuovi inizi emozionanti e finali lieti sono dietro l'angolo quindi pensate che miracoli meravigliosi miracoli che ci aspettano questo è diciamo il messaggio del degli angeli allora le ultime due le svegliamo alla fine andiamo solo andare a volevo solo approfondire un pochino le specifiche su questo su queste energie di questo momento allora andiamo a vedere chiediamo ai nostri angeli che attraverso i tarocchi ci parlino di queste equilibrio che stiamo raggiungendo che stiamo avendo in questo momento con questi miracoli in arrivo che ci porteranno sulla strada giusta ok allora sì piena consapevolezza materializzazione dell'amore e inizio concreto di una nuova vita queste intuizioni ci portano ad avere una consapevolezza incredibile a essere pienamente consapevoli della situazione anche emotiva e amorosa proprio con la fiamma la materializzazione di questa quindi può esserci proprio intuizioni che ci portano non solo ad amplificare la nostra consapevolezza ma anche proprio delle vere indicazioni sulla materializzazione dell'amore di fiamma e qua c'è davvero come iniziare una nuova un ciclo di vita vero nuovo reale reale anche sul piano materiale quindi in risonanza sia proprio con l'equilibrio cioè non solo spirito e materia insieme quindi qua si comincia davvero una nuova vita queste intuizioni saranno miracoli veri e proprie che ci arrivano bisogna ascoltarli perché grazie a queste arriverà proprio la materializzazione allora andiamo a vedere ok sì qua c'è la pace la pace si sta cambiando ci sta parlando proprio di di un quietarsi anche di tutto quello che è stato il passato questo cioè lasciarsi alle spalle situazioni dolorose di di anche di di conflitti grazie alla saggezza superiore abbiamo detto che questa e le ambizioni ci arriva il sapere dell'anima attraverso il messaggeri spirituale la saggezza superiore arriva a darci proprio questa capacità di andare a creare l'equilibrio a creare una condizione proprio di pace interiore e quindi avere anche l'equilibrio di mettere in pratica quello che ci viene detto dall'alto quindi cominciare veramente la nostra missione d'anima pienamente consapevole in pieno equilibrio quindi grazie alla saggezza dell'anima lasciandoci alle spalle tutto ciò che è il combattere i combattimenti del passato e quindi trovare davvero la pace vediamo un attimo cuore fedele ok qua c'è la temperanza ovviamente il mondo dello spirito che che fluisce costantemente nel mondo della materia quindi davvero c'è anche qua il senso dell'equilibrio la materializzazione ok si anche proprio del abbiamo detto appunto del sapere dell'anima quindi questo è un femminile che consapevole consapevole al massimo di quello che desidera proprio a livello di anima ovviamente e lo riesce a materializzare infatti c'è proprio l'equilibrio che porta alla materia allora andiamo a vedere delle specifiche su questo che momento spettacolare lo vediamo lo vediamo perché poi adesso con ancora mercurio che entra nei pesci avremo davvero ancora più intuizioni ancora più indirizzi ancora più comunicazioni che arrivano dall'alto allora vediamo un po' sì sì qua c'è proprio la materializzazione un femminile che è in grado di materializzare anche qua mi sta dando l'idea dell'equilibrio questo è la il messaggio allora qua c'è la coppia a livello proprio spirituale dominata dalle stelle e qua mi dice che l'ambizione della dell'anima è proprio quella di creare a livello concreto materializzare abbiamo detto con un'azione equilibrata il la coppia d'anima che ancora a livello spirituale e qua c'è l'imperatore la materializzazione assoluta qua c'è davvero la decisione la consapevolezza e la il potere di materializzare quindi qua amore fedele che diventa proprio materializzato alla massima potenza vediamo un po' ancora le specifiche su questo allora di cosa ci parla questa questa diciamo intuizione abbiamo detto miracolosa infatti c'è un femminile che di denari quindi cosa vuol dire questo che il femminile l'intuizione che fa proprio parte del femminile il potere femminile è quello che diventa materiale c'è una regina in questo caso quindi è proprio il massimo il massimo potere del femminile appunto c'è la materializzazione esatto queste intuizioni che diventano materia questo è invece il mondo spirituale la consapevolezza questo abbiamo detto coppia i livelli spirituali che diventano anche qua materia pensate quanta risonanza c'è e qua mi arriva davvero un cambiamento cambiamenti dal punto di vista di di azioni azioni fisiche quindi ci sono ancora davvero delle pluralità di situazioni qua c'è proprio mi viene anche proprio il 5 mi rimanda proprio anche anche la comunicazione quindi qua c'è un qualcosa che si materializza una comunicazione che si materializza ci sono più strade che portano alla materializzazione di questa situazione d'amore quindi è davvero la anche qua c'è non solo spade mente i bastoni c'è proprio un po di tutto c'è la materializzazione in tutti i sensi allora vediamo un attimo sì pensavo allora qua possiamo mettere l'energia degli astri andiamo a vedere subito che cosa ci parla vediamo un po marte e la marte proprio la la spille e la forza la forza che arriva alla pienezza del materiale marte quello che agisce marte e l'azione il maschile il maschile quindi qua c'è davvero una predominanza della materializzazione che arriva dai mondi spirituali quindi davvero c'è una situazione di equilibrio che già si è ripetuta tante volte in queste in queste carte si arriva alla pienezza della materializzazione 8 mi parla proprio del pieno pienezza e materializzazione marte quindi vedete che tutto diventa assolutamente materico però deve devono essere ascoltate prima perché in realtà funziona sempre così però siamo molto refrattari ad ascoltare la voce della dell'anima nel momento in cui adesso tutti questi pianeti aprono di più alla percezione di quello che arriva dai mondi spirituali allora è possibile davvero dare delle svolte alla propria vita trovare l'equilibrio che ci vuole proprio per materializzare materializzare non solo anche cose proprio anche lavorative tante cose della nostra vita non solo d'amore ma assolutamente qua c'è anche la materializzazione di tutto questo cuore fedele meraviglioso che l'amore di fiamma allora andiamo a vedere l'arcano maggiore nuovo viaggio il matto qua davvero è il punto zero qua è eliminare tutti i pesi del passato e cominciare una nuova vita ci può essere ancora qualcosa qua c'è un animaletto che morde il sedere del matto cosa vuol dire che l'ego può ancora ogni tanto cercare di tirarti indietro ma tanto tu ormai gli hai tolto potere quindi ormai sei finalizzato focalizzato sulla nuova vita quindi non ti interessa neanche più questo qua può mordere il sedere ma tanto non lo guardi nemmeno quindi in realtà non possiamo eliminare diciamo un po le tentazioni dell'ego però possiamo assolutamente togliergli il potere e poi la voce del maestro vediamo non ti abbandonerò ti sarò sempre vicino infatti qua è l'ascolto del mondo spirituale deve essere sempre sempre perché l'anima è quella che ci guida ma siamo noi che dobbiamo ascoltarla lei non ci abbandona mai siamo noi che a volte la abbandoniamo ci allontaniamo un pochino perdiamo fiducia ma lei è sempre con noi ci guida sempre allora io con questo vi saluto vi do appuntamento alla prossima stesa ovviamente vi ringrazio sempre della vostra gentilezza mi contattate in tanti vi ringrazio vi ringrazio sempre tanto della vostra gentilezza mi dite cose bellissime e quindi sono molto contenta vi invito a continuare a seguirmi su tutti gli altri social se vi è piaciuto il video mettete mi piace attivate la campanella e come sempre se volete approfondire il vostro viaggio io sono a vostra disposizione contattatemi alla mail che c'è nel box informazioni un abbraccio a tutti a presto